E' bella a tutti ragazzi siamo qui da PR di Ciloyer Qui nella stazione di Lorenzo di Cicala ragazzi che è il mio fratello Ragazzi vi ricordo di passare nel suo canale e passate nella crew ragazzi siamo in un Natale fighissimo Ragazzi 4 stelle qui se vedete c'è la piscina vabbè ragazzi non è proprio Madonna che balcone Vabbè non è proprio il massimissimo però ragazzi vabbè qui abbiamo la mia seggiolino ragazzi guardate che bella Per fumare ragazzi le cicchette Poi ragazzi passate nel I cappalloni dei negri Passate nella crew ragazzi Che nella crew c'è io Lorenzo di Cicala che sta registrando XXCVSkank Poi c'è Mirko e Emma Aspetta Matrix 201 C'è Manu 007 Sire vabbè non fare il coglione Cioè guardami a me e poi vabbè E poi chi cazzo c'è che c'è nella crew basta Sì basta E basta ragazzi Ragazzi mi raccomando vi ricordo di iscrivervi Perché ragazzi ormai mi sta arrivando il telefono anche al mio fratello Sto registrando ve lo sto dicendo 20 volte Allora scrivete nei commenti Scrivete nei commenti Eh ok ma non andare a caso col telefono Guardami Ragazzi facciamo vedere qui dentro Ecco qui ragazzi Cioè è la tua maglia Il mio computer Il mio telefono Oh l'ha caricato il video Ecco ragazzi stiamo caricando il video Parla piano Parla piano Questa è la Premium Ma qui a me Ah no ce la sei giurinato Vabbè Paco Vedete Non mi sciolta Vedete Ah no prima Ah vi dobbiamo far vedere Che se ne togliamo la carta Da qui Porta Carta Non va più la corrente Se no la rimettiamo Cazzaforte Oh Fon Vabbè In sciolta In sciolta Vabbè Vabbè Ma che palle Ah bello Quindi ragazzi Ci vediamo nel prossimo video E ragazzi Vi ricordo di lasciare un like E un commento Come sempre E passate nella nostra Che cazzo Sta roba Beh secondo me Non è per bere Per una notte Sì sì Sarà per bere ragazzi Vabbè ragazzi Noi andiamo a farci un giro Che c'è un castello Magari ci vediamo dopo Quindi Balla a tutti ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Balla